La notizia circa la presentazione dello Stadio Partenio, in programma sabato alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino, ha creato molta suggestione ai tifosi irpini. In molti hanno iniziato a fantasticare sul come potrà essere il progetto, iniziando discussioni circa la capienza che dovrebbe avere il nuovo impianto sportivo. Al tempo stesso, tra Amarco e dei ricordi personali sugli spalti del Partenio, c'è qualcuno che ha iniziato a proporre iniziative per far conservare un pezzettino dello Stadio ai propri sostenitori. Dal conservare un pezzo di gradone alla realizzazione di opere d'arte da porre all'interno del nuovo impianto, a memoria della storia centenaria del club bianco-verda. La fantasia non ha limiti, e questo lo sappiamo bene, ma il Partenio per ancora un po' di tempo sarà la casa dell'Avellino. Certamente la società a sabato svelerà i particolari di questo progetto innovativo, ma che al tempo stesso preserverà il ricordo della tradizione sportiva bianco-verda. A presentare il progetto ci sarà Gino Zovanella, storico architetto che ha progettato lo Juventus Stadium, e anche i lavori di rifacimento dello stadio Dall'Arra di Bologna. Ci sarà anche la presenza di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, e il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, a moderare il convegno. Intanto, da lunedì, inizieranno i lavori per l'installazione delle sedute e consentire il ritorno, anche se sempre più complicato, dei tifosi all'interno degli stadi, previsto per il primo di giugno.